Ehi, oggi parliamo di pensioni, che sono in questi giorni al centro delle discussioni in merito al tema pensioni inserito nella legge di bilancio e che abbiamo approfondito grazie agli amici di Money Farm, di cui poi vi parlerò in seguito. Parliamo di una nuova decisione del Vaticano che riguarda le coppie omosessuali e la possibilità di ricevere sta benedizione, ma prima dobbiamo trattare. Anche oggi il tema di Chiara Ferragni è della beneficenza, che continua a peggiorare. Non dimenticatevi di schiacciare like a questo video e di iscrivervi al canale, se ancora non siete iscritti, ci aiuta parecchio, e iniziamo ritornando al Pandorogate, che adesso diventa Uovo di Pasqua Gate. Ieri infatti non si è parlato d'altro che dello scandalo Ferragni Balocco, lo abbiamo trattato anche noi nell'editoriale, che ha visto l'antitrust multare l'influencer per pratica commerciale scorretta. Perché? In sostanza ha pubblicizzato la vendita di Pandori di questa marca, sostenendo che parte del ricavato andasse in beneficenza, mentre una donazione c'era assistata, ma non aveva nulla a che vedere con la quantità di dolciumi venduti. Ora, Ferragni pur ribadendo di voler impugnare la decisione dell'antitrust, ha fatto un video di quelli un po' classici da youtuber che si scosano, no? Che è tutto un filone cinematografico suo, parlando però di un errore di comunicazione, e quindi in qualche modo prendendosi la responsabilità non dell'accaduto, ma di non aver vigilato, quindi inquadrando la cosa come un errore in buona fede, potremmo dire. Per quanto la storia sia scoppiata solo recentemente, con tanto di indignazione pubblica e quindi pentimento dell'influencer, la cosa era già stata messa in luce un anno fa dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che però è tornata alla carica anche oggi, dimostrando come in realtà ci sia un altro caso che riguarda proprio Ferragni, legato stavolta alle uova di Pasqua. Lucarelli infatti scrive sul Fatto Quotidiano facendo essenzialmente due cose. Prima di tutto mettendo in dubbio l'onesta morale dell'influencer delle sue scuse, ipotizzando l'esistenza di uno studio strategico di questo video, quindi dal poco trucco in viso all'outfit casalingo, alla voce rotta, tutti fatto di considerati artefatti, ma soprattutto citando un altro caso in cui Ferragni avrebbe replicato la stessa strategia, cercando di dimostrare che non ci sia un errore in buona fede, ma appunto un modus operandi, un modus operandi in mala fede. Lucarelli riporta come, nel febbraio del 2021 e nel 2022, Dolci Preziosi abbia venduto delle uova di Pasqua brandizzate da Chiara Ferragni, affermando che queste avrebbero sostenuto il progetto I Bambini delle Fate, una no profit fondata dal padre di Andrea Antonello, un ragazzo con autismo divenuto celebre per le campagne di sensibilizzazione, rendendosi proprio un volto pubblico, tanto ad aver partecipato a Ballando con le stelle, dove peraltro la stessa Lucarelli è giudice da diverse edizioni. Comunque, nonostante la loro sponsorizzazione non esplicitasse che parte del ricavato sarebbe stato devoluto a quell'associazione, dicendo invece che le uova avrebbero sostenuto il progetto benefico, tenendosi molto sul vago e sul generico, alla fine questo è quello che la gente ha recepito. A riprova di ciò, Lucarelli cita tantissimi titoli in cui si parla di uovo solidale, della possibilità di aiutare i bambini con disabilità tramite l'acquisto e a volte anche di una raccolta fondi tuttavia inesistente. Dolci Preziosi, infatti, così come Balocco, ha infatti fatto due donazioni prima di mettere in vendita le uova, rispettivamente di 12 e 24 mila euro, per un totale di 36 mila euro che sono stati appunto devoluti a questa associazione. Attenzione, 36 mila euro in tutto. A fronte di queste donazioni, invece, il guadagno di Ferragni sarebbe stato di gran lunga superiore, il proprietario di Dolci Preziosi parla di 500 mila euro il primo anno e di 700 mila euro il secondo, per un totale superiore al milione. E poi c'è una questione interessante. Lucarelli, infatti, ha scoperto che, mentre indagava sul fatto, Ferragni stesse cancellando i post delle sponsorizzazioni per paura di essere travolta da un altro scandalo. Esattamente così come sta succedendo in queste ore. Ora, questa è una tragedia reputazionale sia per Balocco che per Dolci Preziosi che per Chiara Ferragni, anche solo perché emerge come questo modo di fare, sembri essere un modus operandi, non un errore. A fronte di guadagni stratosferici si fanno piccole donazioni a enti benefici, usandoli come leva per far acquistare i prodotti, magari anche a discapito di molti altri dolci e gadget promossi dalle ONG che si finanziano in questo modo. Penso a Emergency. E probabilmente qui, con la più grande delle influencer d'Italia, una vera e propria celebrità, e stessa cosa il marito Fedez, che Lucarelli accusa di aver provato a fare una cosa simile con le sue uova di Pasqua, c'è l'opportunità di aprire un enorme, importante dibattito sull'influencer marketing. Però, mi dovete promettere che lo dobbiamo fare bene. Perché io sono una vita che parlo di responsabilità. Cioè, se uno pensa a me, pensa a quella parola lì. Responsabilità. Essere responsabili in tutto e per tutto, nella vita. Pensare a quello che si fa e all'impatto che si ha nel mondo con le proprie azioni. E quindi, non vorrei che passasse il messaggio che tutti gli influencer, tutte le persone che sono ascoltate, seguite, siano in mala fede. Io non so neanche se Chiara Ferragni lo fosse, lo vedremo nei tribunali, ognuno si faccia le sue idee. Per carità, non è questo di cui voglio parlare. Però, vorrei che non facessimo di tutta l'erba un fascio, così come ha fatto Giorgia Meloni, peraltro, questi influencer. Ma ci fosse un'attenzione maggiore tra chi si comporta in un modo e chi si comporta in un altro. Tra chi ha comportamenti virtuosi e chi invece non li ha. Perché, come dico sempre, è molto 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 facile avere dei comportamenti virtuosi sino a che non arrivano i soldi, sino a che non arrivano le opportunità. Quando arrivano, prendere delle decisioni che potrebbero, ti fanno saltare la possibilità che ti cambi la vita per seguire dei dettami etici rigidi, non è così facile. E credo che le persone che lo fanno vadano premiate. Quindi, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Iniziamo questo dibattito, che adesso durerà tantissimo, perché salterà fuori di tutto. Immagino che a un certo punto ci saranno i tribunali, ci sarà un casino, se ne parlerà dappertutto. Non tutti sono uguali, però. Non tutto è uguale a tutto, neanche quando si parla di influencers. Come detto in apertura, oggi parliamo di pensioni. Ed essendo un tema particolarmente spinoso e delicato, nell'insieme, abbiamo chiesto aiuto ai nostri amici di MoneyPharm, un servizio di consulenza finanziaria indipendente che conosco da parecchio tempo e che, come avrete capito, è lo sponsor di oggi. Si tratta di una realtà che punta a rendere più accessibile il mondo degli investimenti, riconosciuta anche a livello europeo, che vi permette di fare investimenti, appunto, ma senza lasciarvi da soli, seguendo passo passo tutto il percorso e occupandosi di tutto l'oro. Si tratta di un servizio pensato per chi abbia un gruzzoletto da parte e voglia investire quella cifra da qualche parte. Peraltro hanno anche un loro blog che segue notizie legate alla sfera economica. Quindi li ringraziamo, MoneyPharm, per il supporto di oggi, dato che quando parliamo di questi temi ne sanno sicuramente più di noi. E, appunto, passiamo alle pensioni. Perché non è un tema per pensionati. Cioè, il punto di tutto sto blog, se vi dimano una cosa, è che non è un tema per pensionati. È un tema per noi, per la maggior parte del pubblico di Breaking Italy. Che ci sono anche i pensionati, ma sono meno. In questi giorni, infatti, l'argomento è tornato a essere oggetto di discussione, anche perché a inizio settimana c'è stata l'approvazione da parte della Commissione Bilancio del Senato di quattro modifiche presentate dal governo e legate al disegno di legge di bilancio, appunto, che deve essere approvato entro il 31 dicembre. Ecco, uno di questi emendamenti riguarda le pensioni di vecchiaia, di medici, insegnanti di asili e scuole elementari, dipendenti di enti locali e ufficiali giudiziari, su cui erano previsti originariamente alcuni tagli che sono stati poi rimossi dal testo, probabilmente perché avevano contribuito a sollevare polemiche e anche scioperi, come quello del personale sanitario degli scorsi 5 e 18 dicembre. Ma oltre ai tagli ritirati, una delle questioni centrali per l'italiano medio non è solo quando arriverà il momento in cui ci si potrà ritirare dalla forza lavoro, ma se il sistema sarà sostenibile, se ci saranno i soldi. Per quanto riguarda l'età di pensionamento nel nostro paese, secondo il rapporto condotto dall'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sappiamo che chi ha iniziato a lavorare dal 2022 potrà andare in pensione non prima dei 71 anni, che oltre ad essere un'età molto alta, a prescindere, è anche una delle più elevate in Europa, dietro solo alla Danimarca. E se pensate che l'età media di chi è andato in pensione quest'anno e di 65 anni, il balzo in questo senso è notevole e si lega necessariamente all'aumento delle aspettative di vita e del progresso della medicina. Al netto dell'età pensionistica, il tema delle pensioni nel nostro paese è un tema controverso, già a partire dai numeri e anche in questo l'Ocse e Pagela Politica ci possono aiutare a capire la questione nei fondamentali. Al 2021 in Italia risultano circa 16 milioni di pensionati e solo nel 2022 lo Stato italiano ha speso una cifra superiore ai 300 miliardi per quello che riguarda le pensioni, di cui la maggior parte è per le pensioni di vecchiaia legate all'età e ai contributi versati. 300 miliardi, più di 300 miliardi, 300 miliardi è poco, è probabilmente di più, sono dei soldi ogni anno. Il punto è che questi non sono soldi magici, quei 300 miliardi è rotti corrispondono al 16% del nostro PIL, il prodotto interno lordo, e su questo rapporto tra pensioni e PIL il nostro paese ha la seconda media più alta dietro solo alla Grecia, con una media europea che invece è sotto il 13%. Per capire ancora meglio, noi spendiamo circa un terzo di tutta la spesa pubblica italiana in pensioni, quindi compresa sanità, esercito, istruzione, ricerca, tutto quello che possa venirvi in mente, un terzo noi lo spendiamo in pensioni. Anche la Grecia è una situazione simile alla nostra, perché in questo i greci sono molto amici, siamo molto affini per quanto riguarda la spesa pubblica. Un terzo, raga, un terzo, io non so se ci rendiamo conto che le pensioni siano un tema controverso, ce ne si rende conto mettendo anche in relazione i redditi medi dei pensionati con quelli dei lavoratori, e con il fatto che gli stipendi nel nostro paese rimangono fermi al 2000. Si arriva alla paradossale situazione di un paese che mediamente garantisce ai pensionati un reddito maggiore rispetto a quello percepito dai lavoratori, che al contempo versano una parte del loro stipendio nei contributi necessari perché lo Stato sia in grado di pagarle quelle pensioni. Tanto che appunto non bastano. Lo Stato infatti, attingendo dalla tassazione generale, è costretto ad aggiungere fondi propri per non lasciare nessuno lasciutto, fondi che nel corso degli ultimi decenni si sono sempre più allargati e che ovviamente vengono distrati da altre spese in altri settori della vita sociale che non si possono fare, cose che non si possono fare, oppure che si fanno a debito, che è ancora peggio, si fanno i debiti, ci rendiamo conto, mi ripeto molto, ci rendiamo conto. Se siamo arrivati a questo punto con la gestione del sistema pensionistico, una delle ragioni è il modo in cui in passato il nostro paese ha gestito tutto il sistema estremamente lasco nel concedere laute pensioni, basandosi su un boom economico e una crescita demografica che non sono durati, oltre che per ragioni politiche. E a farne le spese necessariamente saranno proprio i giovani, che sono la categoria su cui le incertezze e i dubbi sul sistema pensionistico sono maggiori. L'Italia è un paese sempre più vecchio, diciamocelo. Secondo il censimento dell'ista relativa all'anno scorso, per ogni bambino ci sono più di 5 anziani in Italia, un trend che continua a crescere e che è fisicamente visibile. Fatevi un giro nelle vostre città, guardatevi attorno. Chi vedete? Vedete giovani famiglie? Vedete bambini? Vedete ragazzini? No. Per la maggior parte no. Questo invecchiamento non fa che aumentare il numero di persone che vanno in pensione e contestualmente ogni anno meno persone lavorano e contribuiscono, visto che all'interno dell'Unione Europea il nostro paese si posiziona in fondo alla classifica anche solo per quello che riguarda il tasso di occupazione che ci vede agli ultimi posti. È un sistema che non può reggere e al massimo può essere prolungato nella sua agonia con un progressivo aumento delle tasse che vadano a coprire gli ammanchi sempre più grandi del sistema. Tasse che però creeranno altri problemi. Credo quindi che con l'emergere di nuovi dati di anno in anno che continueranno a confermare questo trend, sarebbe il caso che anche i giovani prendessero coscienza non solo del problema, visto che noi non vedremo mai la pensione la frase più pronunciata dalla mia generazione, ma di come questo problema andrebbe risolto subito, al più presto e le strade sono abbastanza poche. Servono più lavoratori, servono più famiglie, serve far pagare le tasse a chi non le paga, serve far crescere l'economia. O sarà questo, o vedrete che come in questa finanziaria si proverà a inserire di volta in volta taglie sforbiciate che continueranno a essere l'unico modo per far galleggere la barca ancora un po'. Sforbiciate e aumento delle tasse. Non c'è altra strada, non c'è altra strada. E dobbiamo parlarne di questa cosa, dobbiamo risolvere il problema adesso. Basta con questa cosa di non vogliamo nessuno, Elon Musk, Atreyu. Abbiamo bisogno di risolvere un problema enorme. Non buttiamo la via a questa opportunità. dai, su. Ieri il di Castero per la dottrina della fede, che è quella parte dell'amministrazione pontificia che ha tra i suoi compiti valutare quanto o meno ciò da pratiche siano aderenti e preceti cristiani, ha pubblicato una dichiarazione che affronta il concetto di benedizione. E se ne sta molto parlando perché al suo interno viene messa nero su bianco la possibilità da parte della Chiesa di benedire anche le coppie dello stesso sesso. Ma non parliamo attenzione di unioni, perché in realtà le cose stanno in maniera un po' diversa e vale la pena capire un attimo cosa questa dichiarazione vada a trattare davvero nel concreto. La prima cosa da capire è che questa dichiarazione da parte del di Castero va a inserirsi in un trend che negli ultimi mesi ha visto una debole ma significativa apertura a come la Chiesa possa accogliere e far sentire accettati al suo interno anche i membri della comunità LGBT+, ad esempio chiedendo sul loro accesso al battesimo, ne parlavamo qualche tempo fa in puntata, e lo stesso Papa vada in precedenza aperto a delle forme di benedizione che includessero le coppie gay, superando peraltro divieti e paletti imposti in precedenza. Questa enesima dichiarazione quindi è in qualche modo considerata il consolidamento di un percorso che abbiamo visto avvenire, ma che è ancora un sacco di paletti e un sacco di questioni, quindi cerchiamo... allora, allora. Il punto è capire in cosa consista questa apertura e il primo punto importante che viene precisato nel documento è che non si parla in alcun modo di matrimoni, intendendo come questa benedizione non debba essere intesa come la convalida di un'unione, ma semplicemente come una normale invocazione della grazia di Dio su queste persone, una preghiera. E il documento è estremamente chiaro in questo senso, spiega come il prete possa invocare pace, salute, dialogo, aiuto reciproco, ma non nell'ottica di un rituale liturgico. Non solo, è importante evitare, sempre secondo il documento, qualsiasi fraintendimento possa portare a pensare la benedizione si leghi a un'unione, e che quindi la Chiesa stia benedicendo non quella, bensì le singole persone. Per cui niente benedizioni durante un'unione civile, per non creare confusione, niente benedizioni neanche a persone che stiano indossando degli abiti che possano far pensare a un matrimonio. Quindi non pensate di fare i furbi andando vestiti da sposo e sposa, da sposa e sposa, non lo so, con l'abito lungo, no. Il prete se ne accorge e fa, no, 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 caro amico, solo in abiti civili. Da questo punto di vista, infatti, si tratta di una notizia che va molto ridimensionata, rispetto almeno al modo enfatico con cui la stampa ha coperto l'argomento, ma che non va neanche sottovalutata. Innanzitutto perché non è legata solo alle copie di persone dello stesso sesso, ma in generale a tutte quelle persone che si trovano, secondo la definizione del documento, in situazioni irregolari, che è la formulazione standard per le copie di fatto, ma non per forza omoaffettive, quindi ad esempio anche i divorziati, e poi perché ha un valore simbolico, molto importante, che parla ovviamente a tutte quelle copie queer e non solo che alla loro appartenenza alla Chiesa ci tengono. Perché è chiaro, a una copia queer che non sia in alcun modo interessata a cosa pensi la Chiesa cattolica o qualsiasi altra fede della sua situazione sentimentale, questa notizia non dice assolutamente nulla, non gliene frega niente ed è giusto che sia così. Ma queste piccole aperture non parlano a loro, parlano a tutte quelle coppie che rimangono credenti pur nella consapevolezza che la loro fede ritenga vivano nel peccato e che magari vorrebbero dalla loro Chiesa lo stesso tipo di inclusione che la società laica sta lentamente dimostrando, vivere insomma la propria religione senza sentirsi odiati e rigettati dal proprio sistema spirituale. Ecco. Possiamo stare qui ore a dirci anche legittimamente che sia un passo avanti insignificante, che comunque il re rega le persone gay e uno status di serie B, tutte cose abbastanza innegabili, ma è anche vero che d'ora in poi quelle stesse persone potranno andare dal loro parroco ed essere benedette proprio come tutte le altre. Che di nuovo a me e molti di voi potranno sembrare molto, ma per tante persone un piccolo passo che fa una grande differenza e che forse detta è una strada per il futuro. Quindi benvenga. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, mi raccomando date un'occhiata a Money Farm, foste interessati al mondo dell'investimento è un ottimo luogo in cui guardare, quindi vi lascio un link in descrizione. Mi raccomando ma ormai è 19, c'è ancora qualche giorno per comprare i biglietti per venire in teatro a vedermi con Marco Travaglio, Teatro Dal Vermi a Milano, mi raccomando, link in descrizione, 8 e 30, venite un po' prima e per il resto grazie a tutte le persone che sostengono Breaking Italy tramite il sistema di abbonamento, sono abbonate e fanno per noi tutta la differenza del mondo. Fate le brave, fate i bravi e ci vediamo domani.